un ciao da emi bentornati sul mio canale specializzato in giochi di ruolo online film serie tv e anime come in questo caso parleremo oggi del film di demon slayer uscito in anteprima nazionale sulla piattaforma amazon prime video un film che va a seguire quella che poi è stata la serie la prima serie tratta dall'anime che ho avuto l'onore il piacere di apprezzare qualche anno fa mi pare l'anno scorso o l'anno prima e che ho fatto vedere anche a mia figlia nonostante la giovanità andiamo col nostro format molto semplice e chiaro la regia di haro soto zaki del genere anime avventure azione per una durata di 116 minuti la trama come ben saprete va a seguire quella che è poi la trama il proseguimento della trama della serie animata che se non avete visto vi invito a correre con immediatezza a guardare sulla piattaforma amazon prime video perché reputo che si tratti di un prodotto oggettivamente di uno spessore indissolubile assoluto comunque ten giro e nezuko assieme a zenitsu e inosuke si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazza demoni il pilastro delle fiamme rengo ovviamente avevamo già visto alla fine della serie che si univano per andare sul treno dove con estrema probabilità avrebbero trovato delle battaglie passiamo ora brevemente alla sezione non spoiler per dirvi che state assistendo se avrete il piacere di guardarlo assisterete a uno dei prodotti più rilevanti e maggiormente impegnativi da ogni punto di vista che sia presentato per noi amanti di anime per noi amanti di film nel panorama cinematografico mondiale nel suo genere non ha uguali forse da molto e molto tempo questo film che come vi ho detto la conseguenza la conseguenza di una serie che abbiamo tutti apprezzato che abbiamo apprezzato a livello mondiale è una perla di raffinatezza vi spiego perché ve lo spiego in modo estremamente semplice perché perché ci troviamo davanti a una storia che molti avrebbero potuto pensare essere ristretta vista l'ambientazione in esclusiva sul treno mentre invece grazie a uno sviluppo del tutto insolito e particolare avremo una varietà di paesaggi e una varietà di situazioni che apprezzeremo dall'inizio alla fine ho storzato storciato ho storto un po' il naso quando alcune animazioni si sono fuse con la computer grafica mentre per il treno la realizzazione del treno questa fusione è perfetta per la realizzazione dei demoni o di un demoni in particolare diciamo che per quanto concerne le scene realizzate sul treno quindi sopra il treno l'ho trovata un po' fuori luogo ma si sta parlando veramente veramente di pignoleria inutile cioè sono un inutile pignolo perché trovare una pignoleria davanti a un prodotto tanto bello e tanto vasto che sia nello sviluppo dei personaggi nella costruzione dei ricordi negli sketch simpatici che abbiamo tra il nostro Inosuke e Zenitsu oppure tra il nostro Tangelo e sua sorella voglio dire con lo stesso pilastro queste immagini con questi volti trasfigurati e comici che riusciamo ad apprezzare sarebbe veramente fuori luogo sarebbe un raggio cioè mettersi qui come stavo facendo come ho pensato di fare durante la visione su quelle che sono le lacune grafiche quasi impercettibili dal punto di vista realizzativo sarebbe veramente veramente una grande mancanza di rispetto anche quando i bambini entrano nei sogni nel mondo dei sogni dei nostri protagonisti e vanno in quello di fuoco nell'oltreverso lo chiamo oltreverso anche se effettivamente non si chiama così di fuoco diciamo che la realizzazione del fuoco non è prettamente ottimale però come vi ho detto e lo ribadisco trovare un difetto tecnico in un prodotto tanto complesso e vasto nei dialoghi nella profondità e nella complessità dei dialoghi delle emozioni dei ricordi e della costruzione della famiglia sarebbe veramente veramente inappropriato inutile poi che vi dica che i combattimenti in particolar modo quello finale sono epici e innovativi a differenza da quello che abbiamo visto fino ad oggi di prodotti triti ritriti che hanno copiato a destra e a manca da occultano che da dragon ball qua abbiamo veramente un combattimento di spessore detto questo la sezione non spoiler termina qui io vi ringrazio per la visione vi invito se volete a lasciare un mi piace sottoscrivere al canale e attivare la campanella ma anche se non vorreste fare tutto questo quello che realmente mi interessa è che lasciate lasciate un commento su il film e in particolar modo su questa recensione io vi ringrazio e passate alla fine se vi interessa la votazione che ho dato grazie a tutti ora passiamo alla sezione spoiler parte che praticamente i nostri eroi riescono a prendere il treno e come potete bene immaginare trovano il pilastro perché si vedeva già alla fine della serie e come immaginerete sul treno ci sono i demoni cioè non è che storia potrebbe essere chissà che cosa in particolare un demone che controlla i sogni manda i nostri eroi nel mondo dei sogni dove ognuno vive praticamente quello che è un'avventura connessa direttamente alla ventura perdonatemi le esperienze di vita passata e quindi li ritrasporta in una realtà talmente profonda e talmente reale da essere quasi inespugnabile dal punto di vista della fuga non riusciranno quindi a fuggire con facilità ma ce la faranno il primo che ce la farà il nostro protagonista tangelo che riuscirà a liberarsi dai demoni dal sogno nel quale era stato intrappolato e inizierà una lotta con il demone si scoprirà poi che il demone proprietario dei sogni e che dirige e controlla il mondo dei sogni si era fuso in un tutt'uno con il treno questo come vi ho detto è stata forse l'unica scena che mi ha fatto un po' storcere il naso perché quando si trovano sopra il treno ci sono delle lacune tecniche per quanto concerne la computer grafica che comunque sono del tutto irrilevanti alla fine ovviamente riusciranno a sconfiggere il demone non vi sto a spiegare il combattimento epico che ci sarà e fanno deragliare il treno dopo aver fatto deragliare il treno quello che veramente sorprende è che una delle lune crescenti la terza per la precisione appare per la prima volta sui nostri schermi quindi una delle lune crescenti finalmente prende campo e si mostra agli occhi dei nostri eroi e inizia quello che forse è uno degli scontri più leggendari che siano mai stati fatti in unanime con il pilastro del fuoco lo scontro dura diciamo una decina di minuti nei quali comunque i nostri personaggi quasi inermi i nostri protagonisti guardano con esaltazione e tristezza uno degli scontri come vi ho detto più epici dell'ultimo panorama di anime che sia stato realizzato sicuramente negli ultimi 10 12 anni alla fine non vi dico perché perché sarebbe veramente troppo spoiler e vi rovinerei quello che è un prodotto profondo e vasto che non può essere veramente ridotto da una recensione spoiler non merita una recensione spoiler ma come ho detto prima merita un grande rispetto e grazie a questo grande rispetto vi dirò semplicemente che la luna crescente riesce a fuggire diciamo sulle cenere della luna calante perché l'ultima luna calante era ovviamente il guardiano chiamiamolo il guardiano dei sogni impropriamente che invece perisce nostri eroi prendono coscienza e consapevolezza delle enormi sforzi che ancora gli mancano per diventare veramente utili alla causa e il capofamiglia e tutti gli altri pilastri si rendono conto che qualcosa sta per succedere e che qualcosa è successo e tutto ciò che sta per succedere ancora gli aspetta e quello che è successo è invece irreversibile che dire non guardare questo questo film sarebbe a mio avviso un delitto cioè nel senso sarebbe una cosa folle però chiaramente non entro nei gusti personali io capisco che possiate onestamente non lo capisco però faccio finta di capirlo cioè inutile che vi menta cioè io non lo capisco potrei far finta di capire che a qualcuno possa non piacere un prodotto tanto artistico ma si tratterebbe di una finzione di facciata per piacervi in un video cioè io dire sì posso capire il genere no la verità vi devo dire la verità devo parlarvi francamente perché mi sono rotto i coglioni di parlare con tante con tante restrizioni con tante telecamere mi sono rotto le palle di essere davanti a una telecamera forse quello che non sono sperando di essere più apprezzato o meno apprezzato non me ne frega niente allora la verità ve la dico e ve la dico franca come sono abituato a dirle non riesco a capire una persona al di là dei gusti personali che rispetto e di rispetto non mi fai rientrare non che non li rispetti ma non li condivido e conseguentemente non li capisco detto questo vi ringrazio per l'attenzione nonostante la franchezza che ho mostrato e forse uno o due parolacce che non fanno parte della mia immagine su youtube fanno parte della mia vita leare ma non tollero su youtube e quindi cercherò di controllare al di là del mio brutto carattere io vi ringrazio profondamente per l'attenzione che mi date e vi invito a guardare questo prodotto e se le mie recensioni vi fossero piaciute sottoscrivete il canale attivate la notifica ma la cosa che mi interessa veramente che lasciate qualche commento perché i commenti la ti trattano e ne avrei veramente un gran bisogno ora arriviamo alla votazione la votazione non c'è perché sicuramente io non sono in grado di dare un voto a un prodotto tanto bello non ho perdonatemi sarebbe veramente una grande una grande mancanza di rispetto dare un becero voto da 1 a 10 ha un prodotto che va oltre il voto va oltre l'arte questo 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 film è il miglior prodotto anime che credo di aver visto da molto tempo a questa parte meno artistico della leggenda di hey ma forse forse un po più un po più complesso e completo però in questo caso si tratta esclusivamente di gusti perché sapete quanto apprezzato la leggenda di hey vi lascio senza un voto vi ringrazio per la visione e auguro a tutti quanti una buona giornata mi raccomando correte a vederlo non rimarrete delusi